... ... ... ... ... ... ... ti sei sposto il PD ma se si va a fare il governissimo però la fine ci ha messo grasso lì che è proprio a me è religione 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 I quit Il PD è risposto Ma se si va a fare il governissimo Però alla fine ci ha messo Grasso lì Che è proprio l'anello di congiunzione Tra il PD e il PD degli ultimi vent'anni Ho capito, quel problema qual è Dice una cosa e ne fa un'altra Se il 25 stelle si apre un minimo Sì Grazie a tutti.